ciao a tutti bentornati sul mio canale oggi video spacchettamento faberlic mi è arrivato il pacco da qualche giorno infatti non è un vero e proprio unboxing perché i prodotti ho cominciato già a vederli un po a testarli infatti prima di cominciare mi sono magnata una barretta che avevo ordinato bene faberlic spacchettamento diciamo comunque all di quello che ho acquistato della campagna numero 2 del 2021 che è ancora attiva fino al 21 febbraio credo che questo video comunque lo vedrete qualche giorno prima della scadenza della campagna quindi avete ancora tempo per approfittare di meravigliose offerte magari prendere ispirazione da quello che ho acquistato io per me perché questo è un haul che riguarda solamente me aspetto anche altre cose in un ordine che ho fatto per delle mie clienti però magari vi farò vedere più avanti le cose che ho acquistato oltre queste dunque partiamo da quello che stavo mangiando in questa campagna ci sono in offerta le barrette proteiche che io non avevo mai trovato di faberlic adesso vi faccio vedere una cosa visto che il pacco è arrivato già da qualche giorno guardate qui terminato anche quella il pistacchio al cocco queste al cioccolato sono tutte buonissime poi farò una recensione generale su tutti i gusti di queste barrette che contengono non solo un alta percentuale di proteine ve le sto cercando eccole qui ma anche tantissime vitamine acido folico zinco selenio c'è tutto scritto dietro ogni barretta perché riporta la traduzione in italiano dal russo e in questa campagna sono in super sconto le ho pagate pochissimo il prezzo base è sceso a 1 euro e 39 ma sapete che se siete iscritti a faberlic potete approfittare subito immediatamente dello sconto del 20 per cento e se diventate clienti fidelizzati potete arrivare anche a un 26 per cento quindi le ho pagate davvero poco più di un euro queste barrette sono buonissime 120 calorie potete utilizzarle come spezza fame o come proprio passo sostitutivo passiamo al beauty ci sono un po di cose come tutti i mesi ormai perché faberlic produce di tutto da prodotti per la cura dei capelli della pelle del viso del corpo il makeup è proprio dal makeup cominciamo allora grande novità di questa campagna sono stati gli ombretti liquidi io ne sto aspettando altri a parte il packaging che è favoloso vi dico che questa formula è favolosa perché l'ho provata questa mattina infatti sulla palpebra mobile indosso proprio questo non si è mosso questo ombretto tutto il giorno è vero che non ci sono ancora altissime temperature ma vi assicuro che anche dalle mani quando li ho svuocciati ho dovuto prendere lo struccante per cacciarli via quindi ve li consiglio sono anche in offerta in questa campagna e me ne stanno arrivando credo un altro paio che comunque poi vi mostrerò i colori che ho qui nel frattempo sono oro rosa che è quello che vedete sulla mia palpebra eccolo qui c'è un po la luce che altere colori e questo è il platino ecco qua quindi questo va un po più sul grigio il platino ha il codice 5359 e l'oro rosa il codice 5784 poi collegandovi al sito di faberlic e iscrivendovi nel mio team potrete essere seguiti da me per tutto il vostro shopping e anche se siete interessati alla vendita diretta e al network marketing il link per iscriversi lo trovate come sempre in descrizione nell'info box ancora una novità in questa campagna i nuovi rossetti glam shine io ne ho presi solo due ma le tonalità disponibili ecco adesso mi casca tutto come sempre sono tantissime come sempre eccole qui vanno dai nude pescati i rossi prugna rosati ce n'è davvero per tutti i gusti quello che vedete sulla modella è il color ciliegia io invece ho acquistato il codice 40789 comincio a non vederci la cosa è abbastanza grave questo dovrebbe essere il rosa scuro davvero bello questo per le ragazze bionde con gli occhi chiari come i miei è il top e questo invece adatto un po a tutte le carnagioni e fototipi è il codice 40786 che sono provato questa mattina ed è favoloso che dovrebbe essere il pesca nude ecco così vedete perfettamente i colori di tutti i prodotti e voglio già fare una cosa come vedete gli ombretti sono già completamente asciutti quindi credo che siano anche waterproof lì testeremo proprio in immersione d'estate ho preso anche un altro rossettino della linea idralips questi sono favolosi hanno un packaging di lusso con chiusura magnetica questa volta ho acquistato il codice 40827 il colore è questo e viene definito viola polveroso ma direi che un nude rosato anche abbastanza chiaro non molto pigmentato mi aspettavo di più da questo colore ma la formula è eccezionale dura tutto il giorno idrata la mucosa labiale poi ancora in offerta i rossetti di questa linea che è la linea first lady questa qui con il packaging tutto dorato già possiedo uno di questi rossetti e sono fantastici sono mattano lo specchietto per fare ritocchi direttamente dal vostro beauty da borsa apertura a click sbaglio sempre lato e questo è un colore splendido si chiama credo castagnino anche questo affascinante come quello di un'altra linea vediamo comunque il codice 44063 dovrebbe essere castagnino qualcosa ecco il colore è un nude marrone tendenzialmente un po caldo e per gli amanti di mulac cosmetics vi dico che questo è quasi il dupe di milf del rossetto milf e anche diciamo quasi la texture perché sono entrambi ma quello di mulac forse è super matte questo è un matte confortevole ma i colori sono pressoché identici io sto per terminare milf e questo per credo nemmeno 3 euro che l'ho pagato è un degno sostituto gli ultimi due pezzi di makeup che ho acquistato sono come sempre uno smaltino li sto provando un po tutti di tutte le linee questo è un colore favoloso perché è un color melograno che ha all'interno una sorta di glitterini non so se riuscite forse a vederli dalla boccetta sì quindi non è cremoso come questo rosso che sempre fa berlick e non vedo l'ora questo di darmelo sia sulle unghie delle mani e anche quelle dei piedi ultimo prodotto di makeup che ho acquistato il mascara push up ne ho sentito parlare molto bene perdonatemi vi mostro solamente la confezione perché non mi va di aprirlo in quanto ce ne sono già altri nella mia coscetta aperti e non voglio che secchi prematuramente comunque vi terrò informati sulla performance anche di questo poi per quanto concerne la cura dei capelli in offerta finalmente ho voluto provare queste fiale della linea expert per i capelli io ho scelto la ever strong per rinforzare i capelli il cuoio capelluto a base di olio di amla e quella color per appunto proteggere il colore che fate ai capelli le mesh balayage poi di queste linee golose per corpo e mani ho scelto il gusto millefoglie lamponi e con uno sconto notevole ho preso il souffle corpo e la crema mani c'è proprio l'offerta che se acquistate due pezzi di queste linee avete un ottimo risparmio ecco questa è la nuova linea arancia meringata di cui appunto questa campagna è stato il lancio e quella millefoglie lamponi di cui ho acquistato questi due pezzi c'è anche sorbetto lime e mousse banana come vedete sono delle linee complete quindi trovate sia prodotti per la detersione che per l'idratazione delle mani e del corpo ho deciso di acquistare anche i dentifrici nuchi questi da quando ho scoperto faberlic volevo provarli perché mi fanno davvero simpatia sono dei dentifrici al 97 per cento di origine naturale e in questa campagna sono super super scontati perché costicchiano un po io ho scelto quello al cocco per uno sbiancamento delicato e quello ai mirtilli blueberry che è un dentifricio specifico per la notte quindi lo utilizzerò prima di andare a dormire anche in questa campagna mi sono aggiudicata un po di profumi perché faberlic fa in continuazione offerte per quanto concerne i profumi e sapete la mia divendenza non posso sottrarmi all'acquisto di qualche novità soprattutto a prezzi davvero piccoli in alcuni casi ridicoli c'era l'offerta due per uno a romania e io ho deciso di acquistare la viola ne abbiamo prese due io e mia madre una per una perché appunto abbiamo risparmiato il 50 per cento due le abbiamo pagati come se ne avessimo acquistato uno e non vi dirò adesso le mie impressioni è un profumo molto buono ma mi aspettavo qualcosina in più avendo sentito altre recensioni qui su youtube da parte di altri consumatori ma ci sarà tempo per la mia recensione poi ho voluto prendere anche se non conoscevo la fragranza neanche dal campioncino missis incognito da non confondere con incognito l'altro profumo da donna che però ha il packaging bianco questo è quello bordeaux ed era in questa campagna scontatissimo eccolo qui diciamo che questo accordi più gourmand e anche di questo avremo modo di parlare comunque sono tutti molto molto buoni questo l'ho acquistato io l'ha acquistato mia madre l'ha acquistato anche mia sorella sto parlando del beauty café caprice ha una confezione deliziosa e come sempre le fragranze sono buonissime piacevolissime questo mi ricorda tanto un profumo commerciale molto famoso di cui non vi dirò il nome se siete curiosi scrivetemelo in privato chiedete chiedetemelo senza problemi ed è buonissimo quindi se volete ancora approfittare di queste offerte di questa campagna e lo trovate prendetevelo perché è buonissimo arriverà arriverà anche il video su tutti i miei profumi faberlic mi sono tenuta la chicca per ultima tra i profumi che vi ho presentato con il 70 per cento di sconto ho acquistato il valentine judashkin gold io penso che farò un video interamente dedicato a questo profumo adesso non vi dico nulla vi faccio vedere solamente il packaging che è qualcosa di straordinario questo è tutto vetro è pesante di lusso è una fragranza non dico niente una fragranza e l'ho potuto acquistare perché questo è uno dei profumi diciamo più costosi al catalogo con il 70 per cento di sconto perché se vi iscrivete a faberlic c'è questa promozione dal terzo ordine potete scegliere ogni mese un prodotto nel vostro carrello al 70 per cento ci sono tante iniziative tante novità tanti modi per risparmiare per avere dei prodotti di ottima qualità con faberlic di campioni eccoli qui per la lavatrice per pulire casa i piatti i pavimenti questi li regalerò alle mie amiche e alle mie clienti per provarli sia io che loro ancora tantissimi ve ne mostro solo tre però di questi me ne sono arrivati un bel po gel igienizzanti per le mani perché erano in super 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 sconto in questa campagna e anche diciamo nei discount pagate un gel mani come in faberlic e con questa qualità perché come già ho avuto modo di dirvi sono dei gel per disinfettare le mani al 70 per d'alcol con pantenolo e aloe vera quindi non seccano le mani le idratano e le profumano delicatamente ma oltre ad essere donne interessate a profumi e make up non dobbiamo dimenticarci che siamo anche delle casalinghe disperate quindi in questo ordine mi sono arrivati due prodotti per la casa che mi incuriosiscono tantissimo e sto parlando del detersivo universale in polvere per lavatrice e dello smacchiatore in abbinamento questi sono prodotti super 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 concentrati così come il resto delle linee per la casa quindi per i pavimenti per sgrassare per pulire qualsiasi cosa che acquistate in faberlic per la casa va diluito e ne va utilizzato in minima quantità infatti questo è un sacchetto da 800 grammi ma vale in realtà come 3 kg di prodotto di detersivo in polvere normale che acquistiamo al supermercato di solito e vedete che non è prodotto in russia ma in germania e ha tantissimi certificati questo è un detersivo che protegge le fibre e rispetta l'ambiente quindi poi è super compatto occupa poco spazio vi dura quasi tre mesi una confezione del genere vi chiedo scusa ma anche in questo video ho avuto dei problemi di audio ma meno male che eravamo arrivati alla fine qui vi sto ancora parlando di questo magnifico detersivo di faberlic per lavare il vostro bucato sia bianco che colorato e vi dicevo che è un prodotto super concentrato ne basta solamente un cucchiaio in ogni lavaggio per ogni lavatrice e questi prodotti quindi il detersivo lo smacchiatore li ho pagati solamente 1 euro e 99 perché in quanto cliente sto approfittando di alcuni vantaggi dello starting program che mette a disposizione dei suoi clienti faberlic bisogna raggiungere una soglia di spesa un minimo d'ordine e potete portare a casa ogni mese sempre prodotti diversi che riguardano appunto la skin care i prodotti per la casa il makeup i profumi a dei prezzi molto molto bassi come avete visto questo set di detersivi ha un valore di circa 20 euro sul catalogo e io l'ho pagato pochissimo solo 1,99 quindi vi invito davvero a scoprire faberlic sul catalogo ci sono tanti 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 prodotti di cui vi innamorerete ma il catalogo online ha più di 8 mila prodotti tra cui scegliere anche di abbigliamento di lingerie perché faberlic vende anche questo tipo di prodotti come ultime cosine che ho acquistato ci sono questi gadget che sto per mostrarvi appunto nel video queste penne con il logo faberlic scrivono in blu ed è carino insomma donarle con il catalogo alle amiche le clienti oppure da tenersi in casa e poi questa borsina di tela molto molto carina e capiente con i manici belli larghi da poterla mettere anche a spalla dove potete riporre la vostra spesa se uscite oppure i vostri prodotti makeup quello che volete insomma vi ripeto sto aspettando altre cose e sicuramente le mostrerò vi lascio con un'anteprima anche se non potrei questa è la campagna numero 3 la prossima del 2021 dove ci sarà il lancio di questo profumo meraviglioso che io acquisterò perché ho già letto la piramide olfattiva ma non vi dico altro anzi vi rimando al video catalogo che vi pubblicherò molto presto quando la numero 2 sarà terminata e comincerà appunto la numero 3 dedicata anche a tanti prodotti per la primavera con questo è davvero tutto vi ringrazio per aver guardato il video come sempre grazie per i vostri like per le vostre iscrizioni e ci vediamo la prossima se vi va ciao